Un tempo attivo nella politica manduriana che lo aveva visto per un breve periodo vice sindaco durante l'amministrazione di Paolo Tommasino, l'avvocato Nicola Moscoggiuri era scomparso dal panorama locale. Molti si chiedevano che fine avesse fatto ed ecco che il suo nome è spuntato dopo alcuni anni di silenzio sulla stampa nazionale e il quotidiano Repubblica a citarlo nell'inchiesta sulle università private telematiche che fanno affari facilitando il percorso universitario. Nel pezzo firmato da Corrado Zunino si cita il nome dell'ex politico manduriano in riferimento alla Svizzera Unicampus ETG, una SRL che avrebbe la sua sede a Ginevra e segreteria operativa a Manduria dove risiede il segretario Giuseppe Dimitri e il professor Nicola Moscoggiuri, ideatore della struttura. Da ex vice sindaco e avvocato, Moscoggiuri nel 2014 ha rinunciato alla carriera forense per diventare prorettore della società di formazione universitaria, finita sotto i riflettori per presunte irregolarità. Come riporta l'inchiesta di Repubblica e la concorrenza ad aver presentato due esposti al Ministero dell'Istruzione e dell'Università per l'uso improprio del suffisso Uni. A tutti gli effetti, si legge nell'esposto, la società Unicampus ETG rientra fra gli istituti che operano sul territorio italiano senza essere riconosciuto e senza alcuna autorizzazione. Peraltro non è accreditato neppure in Svizzera e usa l'acronimo Uni violando la legge federale. Insomma, il nome di Moscoggiuri è tornato a far discutere riaccendendo la curiosità in paese che lo aveva quasi dimenticato.